Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti ad una nuova orrecensione, ovvero uno di quegli specialini che ogni tanto registriamo e che vanno ad analizzare alcune delle uscite più interessanti nel mercato fumettistico italiano. Quest'oggi vi volevo proporre il primo capitolo dell'universo cosmo, il primo di sé in particolar modo. Parliamo di Caputmundi, i mostri di Roma, città di lupi, nato da un'idea di Roberto Recchioni e scritta e sceneggiata da Michele Monteleone e Dario Sicchio, con ai disegni il bravissimo Pietrantonio Bruno. Che cosa dire? Io questa la definirei una road story che mi ha particolarmente impressionato, una road story perché si svolge proprio sulla strada, della strada a tutti quanti gli aspetti, la durezza, la crudezza, se dovessimo scomodare i sensi potrebbe ricordare l'odore dell'asfalto appena steso, del catrame bollente, potrebbe ricordare l'odore della benzina appena fatto rifornimento e se dovessimo scomodare anche il gusto potrebbe ricordare quel sapore ferroso del sangue. È una storia che è puro intrattenimento, diciamo che non è una storia di quelle che hanno velleità filosofiche che se la tirano con pippe mentali assurde, no, è puro intrattenimento e lo svolge dall'inizio alla fine. Il tema, le atmosfere sono prettamente noir, per chi ama qualche paragone ovviamente non possiamo non citare romanzo criminale, ma secondo me c'è molto anche dei più bravi scrittori noir americani. I protagonisti di questa storia sono innanzitutto il nero, l'inglese e Bimbo, un gruppo di tre malviventi che dopo aver messo a segno un buon colpo si vanno a godere la propria ricompensa in un locale, cercando di svezzare appunto Bimbo al suo primo rapporto, diciamo, completo, sessuale. Proprio in questo frangente fanno l'incontro con Greta, una vecchia conoscenza, la quale propone a loro un colpo ben più grande, colpo che però andrebbe a scomodare gli interessi dello sceriffo, un tizio che diciamo se la comanda molto nell'ambiente della malavita romana, con alcune tendenze alla tortura non proprio piacevoli. Ovviamente i tre accettano e non sto qui a dirvi come va a proseguire la storia, ma tutto questo porterà all'introduzione dell'elemento fantastico, perché non c'è soltanto romanzo criminale, ma ovviamente ci dovranno spiegare il perché della città di lupi, ecco appunto, mano mano ci si arriva. E questo elemento fantastico non stona per nulla in questa storia, anzi si integra proprio alla perfezione. Tutto questo viene condito con i disegni di questo ragazzo che io veramente non conoscevo, chiedo scusa, perché Pietrantonio Bruno realizza delle tavole eccellenti. Fa un uso delle chine e dei neri che è veramente ottimale, tale da creare dei giochi di luce e dei contrasti veramente veramente notevoli. Adesso vi vado a far vedere un po' delle tavole sperando di beccarne alcune che siano esemplificative, ma guardate qua quanto è bravo questo ragazzo. Veramente veramente notevole. Sono rimasto impressionato. In mezzo alle storie di questi tre compare anche una guest star, perché compare Pietro Battaglia, ossia la creatura di Roberto Recchioni e Leo Max, che in questo diciamo, frangente non ha un ruolo proprio principale, ma comunque comunque importante. Quindi credo di aver detto un'infarinatura generale di questa storia, direi che se dovessimo dare un voto io darei tranquillamente un bel sette e mezzo, perché il fumetto è anche intrattenimento puro e semplice, ma questo non vuole svilire la storia. Anzi, secondo me i ragazzi hanno voluto proprio cercare di allargare la base il più possibile con qualcosa che sia coinvolgente. E per me ci sono riusciti alla perfezione. Quindi, oltre a invitarvi a seguire il resto dell'universo Cosmo, perché appunto, come ricordavo, è il primo di sei, vi invito a seguire anche il canale del TG Comics, con sia il TG vero e proprio che vi presenta tutte quante le novità in uscita in fumetteria, ma anche in edicola, ma anche appunto con gli specialini delle or recensioni. Vado a spiegarvi or recensioni perché non sono in grado di farle, mi fanno schifo a me, però spero che non facciano schifo agli autori e nemmeno a voi. Con questo vi ringrazio ragazzi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!